Si è presentato con toni concilianti e propositivi il nuovo presidente del Fano Calcio, Salvatore Guida, insieme al suo direttore sportivo Pierluigi Petritola, al primo incontro con i giornalisti, a cui ha partecipato anche una rappresentanza del club dei tifosi, amareggiati, delusi, ma forse più esatto dire arrabbiati, in seguito ai rapporti intrattenuti con la vecchia proprietà. Questi ultimi hanno subito messo alle strette il nuovo presidente, affermando che al di là delle parole e delle pure intenzioni, avrebbero voluto vedere subito i fatti, ovvero il pagamento degli stipendi arretrati ai giocatori e la prenotazione dell'albergo per la prossima partita. Richieste che Salvatore Guida ha subito accolto, smentendo tra l'altro che la società del Fano Calcio sia in liquidazione e chiarendo che l'indebitamento ammonta solo a 300.000 euro, una cifra per la quale non si potrebbe parlare di fallimento, essendo nelle sue possibilità coprirla. Com'è definito al momento l'assetto societario? L'assetto societario è come era prima, c'è un presidente che sono io, il direttore generale è l'avvocato Pierluigi Petritola, c'è un vicepresidente che è Franco Pantaleoni, c'è il responsabile dell'area tecnica che è Giuseppe Di Conso, e l'allenatore alla mia piena stima e fiducia che è Cornacchini e al momento i segretari chiaramente sono confermati entrambi, quindi al momento questo è l'assetto societario. Prospettive adesso di carattere finanziario prima di quelle sportive, perché bisogna prima di tutto ripartire con il piede giusto, quali sono? Niente, si paga quello che c'è da pagare e poi si va avanti, si termina la stagione e poi poco prima del termine della stagione si cerca di programmare una stagione, mi auguro, diversa per il prossimo anno. Sono tutti quanti veramente dei bravi ragazzi e credo che veramente i ragazzi meritano e sono certo che ci porteranno a salvarci sul campo. È il primo obiettivo, sicuramente riuscire a mantenere la categoria sarebbe fondamentale, sarebbe importante ed è l'unico obiettivo che quest'anno c'è. Guida ha chiarito di avere ultimato tutti i passaggi relativi alle quote societarie, ma ora tutta l'attenzione è rivolta sui giocatori e sul campo, dato che retrocedere in eccellenza significherebbe un altro esborso di soldi. Il dato sportivo è stato trattato anche dal direttore generale, fiducioso che d'ora in avanti, riacquistata ai giocatori la serenità, le cose cambieranno, seppure più settici. Questa è la speranza anche dei tifosi.